Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati su Crypto Salad, io sono Federico, oggi è il 2 gennaio 2022, Bitcoin 47.280 dollari, primo episodio dell'anno, ci sono tantissime cose che voglio mostrarvi sia nel breve termine ma soprattutto per quanto riguarda l'anno che è appena iniziato, quindi ragazzi divideremo un po' la trattazione di queste cose tra i prossimi episodi. Oggi ragazzi guardiamo in particolare come si è mostro nelle ultime ore Bitcoin, qual è il prezzo di apertura dell'anno che sarà a mio avviso un livello importante di supporto o resistenza e poi guardiamo più nel dettaglio cosa sta accadendo nel range di Bitcoin. Quindi ragazzi come al solito se vi sembra interessante lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per le notifiche, lasciate i vostri messaggi. Ovviamente ragazzi vi auguro un meraviglioso 2022 sia per le Crypto ma per qualunque aspetto che vi riguardi. Ragazzi guardiamo insieme il grafico, sempre time frame giornaliero, Bitcoin è sempre all'interno dello stesso range, quindi ci stiamo sempre muovendo in zona 47, 48 mila dollari. Come vediamo siamo sempre al di sopra di questa trend line discendente di precedente resistenza e adesso potenzialmente supporto, quindi questo potrebbe essere un maxi bullish ritest di una trend line macro di resistenza che adesso potrebbe diventare punto di supporto. Quindi Bitcoin non deve violare questa trend line ma soprattutto non deve come dicevamo scendere al di sotto di questo box verde che rappresenta i 40, 40 barra 42 mila dollari. Questo perché il minimo, il precedente minimo fatto da Bitcoin è a 42 mila e soprattutto non vogliamo creare un macro lower low. Quindi non vogliamo creare un minimo più basso di quello precedente creando una nuova struttura macro ribassista. Quindi ragazzi fin tanto che Bitcoin non perde il minimo dei 42 mila dollari sostanzialmente non c'è molto che sia cambiato. Anzi più stiamo in questa zona e più riaccumuliamo più probabilmente la prossima bassa di Bitcoin sarà verso l'alto. La mia opinione personale è che complice la quantità di paura che c'è in questo momento sul mercato perché siamo ad un livello di 29 quindi c'è ancora grande incertezza e grande paura e complice anche il funding per cui come commentavamo qualche giorno fa il funding è molto negativo quindi sia grande paura che funding negativo. E' probabile che la prossima mossa di Bitcoin di volatilità si esprima verso l'alto. Poi a quel punto vedremo se effettivamente Bitcoin incronterà nuove resistenze creando un massimo più basso del precedente ultimei ed eventualmente continuerà a scendere. Se guardiamo nel caso in cui Bitcoin dovesse ripartire al rialzo il principale target di resistenza ragazzi rappresenta il livello che c'è tra lo 0,5 e lo 0,61. Quindi dal massimo al minimo il livello di resistenza più importante per Bitcoin è tra i 55 e i 58 quindi uno scenario plausibile è una ripartenza in questa zona e poi qua ragazzi ce la giochiamo per cui o creiamo un macro higher low e quindi riniziamo a scendere. Scenario decisamente ribassista o altrimenti riusciamo a violare questa resistenza e andando nuovamente a provare a creare un nuovo massimo storico. Però a mio avviso lo scenario del rimbalzo in questo momento sembrerebbe quello più probabile. Guardiamo poi ragazzi quali sono i target del mese di gennaio. Li troviamo qui. Questi sono i livelli pivot e i take profit e i supporti del mese di gennaio. Il mese appena iniziato questo è un mese che parte in maniera ribassista. Dobbiamo essere consapevoli Bitcoin si trova sotto il livello P che come vedete si trova in zona 49.000 dollari. Quindi vogliamo violare il livello P e poi muoverci verso il primo target rialzista del mese di gennaio 56.132 dollari. Altrimenti ragazzi il primo punto di supporto del mese di gennaio statico si tratta dei 39.165 dollari. Per adesso ragazzi il mese per come è partito è partito in maniera ribassista se consideriamo che siamo sotto il livello pivot. Se ragazzi guardiamo poi le due medie mobili più importanti quella dei 50 giorni e quella dei 200 giorni. Vediamo che in questo momento Bitcoin si trova sia sotto i 200 giorni che sotto i 50 giorni e plausibilmente se la situazione continua in questo modo potremmo assistere ad un nuovo dead cross. Quindi un incrocio ribassista di questa media mobile che incrocia al ribasso i 200 giorni dando origine ad un incrocio ribassista plausibilmente intorno alla metà di gennaio. Se il prezzo dovesse continuare a scendere o eventualmente rimanere in questa zona. Questo ragazzi è quanto da mostrare in questo momento sul giornaliero. Se guardiamo più nel dettaglio le quattro ore vediamo che Bitcoin si muove chiaramente all'interno di un range formato da la parte superiore che è costituita come resistenza i 51.000 dollari e 9 per cui Bitcoin è stato rigettato per 1, 2, 3 volte in questa zona. Una situazione che ricorda a me molto di quanto abbiamo visto nei mesi estivi con Bitcoin che non riusciva a violare i 41.000 dollari. Quindi era stato rigettato diverse volte in zona 41.000. Quindi vogliamo spingerci sopra i 41.000. Dall'altra parte abbiamo un supporto importante che è già stato ritestato diverse volte in zona 45.700 dollari. Per quattro volte Bitcoin ha risposto con un supporto proprio in questa zona. Ragazzi il punto di partenza dell'anno 2022 è un anno che parte ad un livello di 46.200 dollari. Questa linea gialla che vedete qui contrassegna il prezzo di apertura dell'anno. Quindi la prima nota positiva è che il prezzo si posiziona sopra l'apertura annuale. Punto fondamentale di supporto per il 2022. Vi ricordo che nel 2021 il prezzo ha aperto a 29.28.800 dollari e quello è stato un livello di supporto fondamentale durante tutto l'anno. Anche durante la fase di bear market estiva. Quindi ragazzi vogliamo mantenerci al di sopra di questo livello. Quindi sarà importante anche qui mantenere il supporto dei 46.200 dollari. Aggiorniamoci insieme per vedere se eventualmente torneremo a ritestare di nuovo questo livello per vedere se c'è del supporto in arrivo. Ragazzi poi guardiamo insieme in ultimo questo grafico che secondo me è sempre molto interessante. In particolare se avete un'ottica di accumulo o di piani di accumulo nel medio termine questo strumento potete utilizzarlo per capire se è un momento più opportuno per andare ad accumulare o eventualmente è il caso di ridurre il piano di accumulo. E come si può capire se bitcoin ha una performance negli ultimi 30 giorni che è negativa storicamente è un buon momento per comprare. Quando invece bitcoin ha una performance negli ultimi 30 giorni che è positiva o molto positiva potrebbe essere un buon momento per ridurre il piano d'accumulo se non addirittura andare a prendere dei profitti. In questo momento ragazzi la chart purtroppo è aggiornata al 31 dicembre eravamo ad un meno 20% rispetto ad un mese prima quindi storicamente questo indicatore ci mostra che siamo in una zona di buy o addirittura strong buy. Quindi può essere che nei prossimi 30 giorni potremo vedere qualche riazzo per riportare questo livello almeno in zona 0 o eventualmente 10-20%. Quindi questa è sicuramente una buona zona di accumulo siamo sotto la media di 200 giorni e siamo con questo indicatore che ci mostra un chiaro segnale di acquisto. Ragazzi per oggi è tutto domani facciamo un approfondimento su quali sono i livelli dell'anno quali saranno i livelli più importanti di take profit ed eventuale supporto del 2022 paragonandoli anche con gli anni precedenti. Ragazzi grazie per la vostra attenzione vi auguro ancora un buon anno noi ci vediamo al prossimo episodio ciao. Ragazzi grazie per la vostra attenzione vi auguro ancora un buon anno.